Caro Carmine, ti volevo dire dal mercato generale di Madrid che anche da qui tutto il resto è noia. Ciao Carmine, un grande abbraccio, ti salutiamo da Madrid, dal mercato generale e ti stavamo pensando per le tue bontà, per le tue specialità che fai mangiare ogni giorno in Germania e ti volevo ridire che tutto il resto è noia. Ciao Carmine!